Black Friday è l'opportunità per grandi distribuzioni di svuotare i magazzini. Vendono sotto il prezzo di costo, perché sennò dovrebbero smaltire. Per chi come noi fa un prodotto fatto localmente, il Black Friday è proprio una cosa che non possiamo fare e non vogliamo fare. Cioè alimenta quest'idea di fare l'affare. Prima di un periodo storicamente importante per il commercio, cioè quello del Natale, comprare a prezzi ribassati. Bisogna riportare l'attenzione sul prodotto. Il suo prezzo è giusto, ed è giusto sempre. Ribassare di percentuali altissime non è possibile. C'è un rapporto di fiducia che si può instaurare con il proprietario di un piccolo negozio. Bisognerebbe un po' ritornare a quel rapporto più stretto fra il compratore e il venditore. Il Black Friday è la punta di diamante di un sistema che porta il saldo ad esserci quasi sempre. Questo ha abituato il cliente a pensare che se compra a prezzo pieno, quasi viene fregato. Più c'è informazione da questo punto di vista, più che anche il compratore magari ha la possibilità di prendere una decisione in coscienza. Bisognerebbe, la generazione dei più giovani, instillare in loro tutte le informazioni necessarie per poi diventare da adulti anche dei compratori più etici.